Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video! C'ho una maglietta così perché sono andata a camminare però facciamo uno svuota alla spesa perché i miei uomini invece sono andati a fare la spesa quindi cominciamo pomodori spinaci in foglie, quelli congelati croccantini di filetti di merluzzo agli spinaci, molto buoni questo devo dire viustel, pollo e tacchino yogurt, quello magro altri viustel, altri viustel per la pizza latticini viustel poi mievito poi budini questi qua cacao e vaniglia macinato cotolette tra due le si vede macinato ma c'è una cosa in blu poi gorgonzola questo gorgonzola e mascarpone ma ci siamo viziati certo mascarpone, mascarpone, viziatissimi proprio ricotta questo lui si è comprato il mascarpone perché questo è che io gli devo fare il tiramisù capito perché lui vuole il tiramisù con il mascarpone e quindi mi compra il mascarpone va bene poi yogurt i tort i tortellini di sottata e finati uova mozzarella quelle da qua adesso roba fuori frigo ho preso due panne ketchup una panna da cucina il dentifricio di spiderman quello di jacopo quello per bambini insomma poi farina il simil pan di stelle quindi frullini con cacao e nocciole perché se no mi dite e pensare ai pan di stelle nocciole noi prendiamo cloni cloni poi muesli croccanti che quasi io li amo mandorline sgusciate sgusciate sì poi il lievito per dolci zucchero di canna carote poi c'era il succo questo qua poi c'era quello in offerta di manca non l'avevi vista non so guarda il cacopo cioccolato fondente e cioccolato fondente però quello era da vuole l'arancia rosso l'unico bambino che beve l'arancia rosso il cacao per bubu quello da mettere la mattina nel latte pepsi per quando vengono i miei suoceri ceci ceci piselli tre scatoline i spaghetti polenta questa qui istantanea panna besciamella poi peperoni e ricotta i sughi quelli già pronti che sapete che sono buonissimi poi ah questi qui pisellini e carote che sono super utili perché se dovete fare tipo un'insalatona al volo questi sono utili anche tipo un sughetto e ci mettete dentro uno di questi al volo e maio olio di girasole questo qua poi due passate altri due di ceci e ha preso gli anacardi tostati poi le simile gocciole poi i simile a bracci questo qua quello da meno parima poi hanno preso però questo dai cinesi insomma dai un goccietto questo per bianca questo per bianca che vi devo dire costano poco ma sono le uniche che non gli danno noia bianca cioè patatine un altro pacchetto di patatine ci siamo allora abbiamo anche questo gristini due di gristini pan bauletto bianca un attimo pan bauletto due e poi un altro di gocciole e il maxi di carta igienica abbiamo preso speso 115 però guardate quanta roba hanno preso quindi calcolate che questa è la spesona del mese di settembre dai 115 per un mese va bene